Ciao ragazzi, benvenuti! Vediamo cosa c'è nel sacchetto di oggi. Gocce di cioccolato! Infatti oggi faremo i cookies, che sono dei biscotti buonissimi con le gocce di cioccolato. Vi ricordo di farvi aiutare da persone un po' più grandi e un po' più esperte, soprattutto nei processi un po' più difficili. Vediamo come si preparano! Grazie a tutti! 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 Vedete che è finita ora del cioccolato! Dopo aver steso la carta da forno sulla teglia iniziamo a fare le palline. Prendiamo con un cucchiaino del gelato, se ce l'avete, se non va bene qualsiasi altro cucchiaino, una parte del composto. Poi, aiutandoci con un altro cucchiaino, facciamo scivolare piano piano il composto sulla teglia, per ottenere una pallina. Facciamo la stessa cosa fino alla fine del composto, stando ben attenti però a distanziare bene le palline, se no si appiccicheranno una volta in forno. Ora è il momento di infornare, state attenti che scotta tanto! Quindi prendiamo la teglia e la mettiamo a circa metà del forno. Benissimo ragazzi, questi sono i cookies pronti. dovrebbero uscirvi una ventina di cookies e se non bastano 20 minuti, cosa molto probabile come è successo a me, teneteli fino a quando non sono omogeneamente cotti. Proviamo a vedere se è buono. Buonissimo! Buon appetito ragazzi!